Sulla base della mia esperienza ormai trentennale potrei utilmente dire che il risparmiatore fin tanto che rimane agganciato al rendimento, quindi le scelte finanziarie sono fatte sulla base del rendimento, ci stiamo sbagliando, non è quella la strada. Piuttosto invece accompagnato da un professionista del settore della materia che in qualche modo coglie le finalità del risparmiatore, ma al contempo cercando di valutare quello che è il momento particolare di mercato può riuscire a far cogliere al cliente anche alcune opportunità che altrimenti per lui sarebbero pregluse.